La danza è per me un onore presentarvi il balletto di Mosca, la classic, una delle più importanti compagnie di danza classica che da 25 anni porta in Italia, proprio in questo periodo, Natalizio, i balletti che ci fanno sognare. Quindi, nonostante tutti gli impegni, una tournée veramente interminabile, loro, anche loro, vogliono essere oggi accanto a Teletron. Continuate anche durante la loro esibizione a donare al 45518 e in maniera così istituzionale fatemeli presentare. Dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, il waltzer dei fiori della classic. Grazie a tutti. 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 Donate, donate al 45518. Vorrei però ringraziarli in russo. Come si dice grazie in russo? Grazie. Grazie. Spassiva. 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 Spassiva, 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 va bene? Ok, pare di sì, pare di sì. Continuate a donare al 45518. Grazie, grazie davvero. Durante la pubblicità potete anche approfittare di chiamare l'8126912 e con soli 10 euro al mese potete sostenere la ricerca ogni giorno. Quindi fatelo durante la pubblicità, quindi fatelo durante la pubblicità possiamo fare davvero differenza. Tra poco, qualche minuto. Grazie ancora alla classic. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie.